Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Italiano. Mi chiamo Sven Frank. Ciao Nicola, sei pronti? Ciao, prontissimo! Prontissimo! Oggi vorrei parlare di Dinner for One, una cosa molto molto tedesco e anche molto molto straniero. Allora, al fin dell'anno tutti i tedeschi guardano un film, questo film è un piccolo sketch del teatro o non parlo, un piccolo... Una scena, una scena di teatro. Una scena di teatro, bianca e nero, allora molto molto vecchio, e in inglese. Ok, ok. Allora, la storia è, dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, Un team, una squadra della televisione del nord di Germania, NDR, viaggiava a Inglaterra per trovare Inglaterra, per trovare una cosa tipicamente inglesa. Ok. E questi due attori, sì, attori, venivano a Germania per fare una registrazione della scena del teatro. Ok, ok. E, allora, la storia è molto molto interessante. C'è l'anniversario e il compleanno di una signora, il novantaprima anniversario o compleanno. Ah, ok, il novantunesimo compleanno. Novantunesimo, 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 esatto. Novantunesimo compleanno. E, normalmente, la signora invitava su amici, ma queste quattro persone sono già morte. Ah, ok. E il badla, come si chiama badla? Ah, il servitore? Sì, il servitore, il cameriere. Sì, il servitore della cassa deve rimplacere tutti e quattro. Ok, quindi il maggiordomo, ecco la parola che cercavo, il maggiordomo deve rimpiazzare tutti e quattro gli invitati che sono morti. Sì, sì, e specialmente con bere alcoli, bevande alcoliche. Ok. Ok, allora possiamo guardare? Allora, questo è la sala per mangiare e questo è il servitore. Ah, il maggiordomo. Il maggiordomo. Allora, rimettere il tavolo, il tavolo e questo è un... Un tigre. Un tigre. Ah, sì, la tigre. La tigre non si... In il libro, il piccolo principe, tigre non è solo tigre, ma anche un animale salvaggio. Sì, un animale salvaggio, la tigre. Sì, sì, aber heißt tigre nur tigre, oder hat es auch eine andere Bedeutung noch? Ah, l'animale. Non conosco altri significati per tigre. Ah, ok. Allora. Ok. Also... Vittavia. Der Butler trinkt also auf jeden Fall so viel, dass er am Ende so betrunken ist, dass er nichts mehr auf die Reihe bekommt. Also es wird auf jeden Fall immer lustiger. e Dinner for One è quello che gli italiani tipicamente a Neujahr guardano tu non lo vedevi? non lo sapevo non ho mai visto ok ma Dinner for One è veramente una instituzione tedesca perché nessuno in Inglaterra oppure straniero lo conosce non mai sentiva di questo nessuno ne ha mai sentito parlare tanto in Germania però in Germania anche in Austria o tanto in Germania? non solo in Germania è una produzione tedesca ok allora buona sapersi poi me lo guardo tutto con calma questi questi filmi guardi tu normalmente come scusa? non ho capito la domanda questi filmi ti piacciono? ah sì anche trovo affascinanti i film in bianco e nero i film i film muti quelli con soltanto il piano sotto che si sente la musichetta ogni tanto appare la scritta di quello che succede e poi ci sono loro che fanno cose velocizzati sono interessanti sono interessanti allora io vedo che sei un musicista ah sì sì qui c'è il mio studio qua tu c'è un keyboard sì questa è la mia tastiera due gitarre sì due gitarre c'è il basso qua c'è il basso e dietro c'è la batteria wow molto interessante poi da poco sto imparando a suonare la tromba e basta pure e che quale sorta di musica fai? dipende quella che è più facile no no sono più sul rock più su qualcosa di più un po' più pestato ok però mi piace mi piace ascoltare un po' di tutto dalla musica classica al metal per dire cioè l'ambito è molto vario allora puoi puoi suonare qualcosa nella prossima episodio episodio sì episodio sì ok sì sì bene 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 allora ho una una ultima cosa una ultima frase ok del piccolo principe naturalmente mi disegni mi disegni una pecora ok perché perché il piccolo principe vuole che il piloto Antoine de Saint-Tux-Prix disegna una pecora questa è la prima cosa quando incontriamo incontriamo mi disegni una pecora e il piloto risponde cosa per favore disegnami una pecora allora questo è come una frase con grande simbolismo ok però perché perché adesso possiamo implementare questa frase al mondo quando incontriamo una persona possiamo dire per favore disegnami una pecora ok allora al madre al padre alla sorella al fratello alla donna al nonna al nonno nonna e possiamo guardare la reazione ok ah ok quindi per la reazione ma che una bevegung daraus un movimento una bevegung una reazione un movimento però in questo caso una reazione un grande movimento una demostrazione ok zeichne mir un schaf das ist quasi so der 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 Satz der das der Schlüsselsatz der das Codewort zeichne mir un schaf und zeichne mir un schaf ist im Grunde das Schlüsselwort für du kannst mir hundertprozentig vertrauen ok daraus machen wir jetzt eine große Bewegung mit diesem Podcast zeichne mir einen schaf in allen Sprachen genau und wenn jemand keine Fragen stellt und einfach nur ein schaf zeichnet dann weißt du du kannst ihm hundertprozentig vertrauen und wenn er anfängt Fragen zu stellen dann kannst du dann immer sagen ihr dulci sempre hanno bis sogno di spiegazione nee erwachsen brauchen immer erklärungen und dann weißt du kannst mit dem nichts anfangen wenn du am flughafen bist du rufst deinen freund an morgens um drei und sagst hol mich in Mailand oder in Rom vom flughafen ab so ein guter freund auf den du dich verlassen kannst der steigt ins auto und sagt ich bin in vier Stunden bei dir ein freund auf den du dich nicht verlassen kannst fragt warum ok das ist der test diseñame una pekora ok ok in effetti pensando così è molto simbolica la cosa si naturalmente la il libro è plenato con simboliki ok è pieno è carico si pieno ok Nicola per oggi grazie figurati era un grande divertimento come sempre anche per me è sempre divertente allora parliamo la settimana prossima ok perfetto ti sei yummy una pekora perfetto ok ciao ciao ciao